In Puglia gli stati generali della mediazione immobiliare con professionisti del settore provenienti da tutta Italia che si danno appuntamento a Bari. Approfondimenti sul caro prezzi, distanze e appartamenti, la direttiva europea che punta a emissioni zero per le abitazioni, il contrasto all'abusivismo e alle locazioni in nero che infettano il turismo e ancora la tutela di agenzie e consumatori. Sono questi i temi al centro della tre giorni organizzata dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. L'appello sulle criticità insistenti per il settore è rivolto agli enti territoriali, al governo e alle istituzioni europee. Questo innalzamento dei tassi ha creato sicuramente dei problemi perché in effetti è venuto meno quello che il rapporto rata-reddito, insomma perché il reddito è rimasto invariato mentre la rata del mutuo è aumentata in funzione dei tassi che sono aumentati per cui crea un'enorme difficoltà per l'accesso al finanziamento, per l'acquisto della casa che rimane sempre il bene primario per la famiglia.